La bassa pressione sul Tireno meridionale, in lento e graduale col momento, determina ancora condizioni di instabilità diffusa al centro-sud, in particolare sui versanti ionici e isole maggiori, temporaneamente anche al nord Italia per la risalita di un fronte occluso. In Toscana giovedì 18 novembre parzialmente nuvoloso, con schiarite anche localmente ampie, molto nuvoloso coperto sulle zone del crinale appenninico e sull'Appennino orientale, venti deboli moderati di grecale con locali rinforzi sui rilievi, mari poco mossi sotto costa, mossi a largo, temperature minime in locale lieve aumento, massime stazionari. Sul territorio provinciale da poco nuvoloso fino a Sereno, a Lucca e sulla Piana temperatura minima 7, massima 17 gradi, in Valle del Serchio e zone montane minima 6, massima 17, a Via Reggio e sul litorale minima 9, massima 18 gradi. Venerdì sereno poco nuvoloso, temperature in ulteriore calo.